E' un robottino moltiuso, signora Montella. E' un artillaro che esegue 14 funzioni integrate in un solo innovativo elettrodomestico dal design prestigioso. Sì, ho capito, ma scusi, ma chi gli ha dato il numero mio? 20 nominativi. Freschi, freschi, sicuri, 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 tutti per te. Io la capisco comissimo, però se il nostro tecnico... Ho capito, signora, però lei non mi... E allora vaffanculo te, porca troia, vaffanculo, che cazzo! Telefonista anche lei? Turno pomeridiano. Sindacato precari, Giorgio Conforti, molto piacere. Papà, ma che stai a fa? Ma non mi rende conto che è lui che ci fa le varicule a tutti! Ma perché non ti fai un ritocchino qui, leggero, leggero? Ci penso. Ma lei quant'anni c'ha? 24, signora, perché? Ah, allora, forse ha conosciuto mi nipote Giulia. Ah, Giulia, sì. E che fa di bello adesso? Purtroppo non c'è più. Marta, del turno 9.13! Mamma, tu come ci sei finita lì dentro? Io cercavo lavoro e ho trovato questo. È strana, è laureata. No! Ci sono molto nuovo, sol, la persona, la persona. C'è l'aria appostante, Sol. Ciao, Marta! Ci do' quanto vuoi. C'è l'aria appostante, sol, la persona, 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 la persona Grazie.